Il cazzo di Bossa È circa 80 anni che non si vede più in Sardegna Perciò io faccio la ricerca storica Però porto alla conoscenza del pubblico I pezzi che faccio Eh, dici di tu No, beh, il Birimbao Il Birimbao è al contrario Che d'è che fai? Il Birimbao è così Il Birimbao è così E non ha la zucca E non ha la vescica C'ha la zucca C'ha l'arte Perché il Birimbao si tocca No, ma si suona anche il bastone Si, si, si suona ma Tu lo tocchi però con le dittature Invece questo Vuoi suonare? Si, si suona le dittature Si, si suona le dittature E non ha la zucca Grazie a tutti. Grazie a tutti.